Ora si tratta solo di rifinire il bozzetto Poi intervenire accennando i mezzi toni che evidenzieranno tutti i particolari Attenzione, non cercare di ripassare le linee di costruzione Usale come partenze per le sfumature che partono nette al confine fra luce e ombra e sfuma Oggi si tratta solo di ripassare le linee di costruzione Grazie a tutti. La gomma pane è sempre preziosa come al solito in queste rifiniture. Nei capelli ci vogliono piccoli interventi di tratteggio modellato. Scusa solo un momento, sai che puoi venirmi a trovare su Twitch dalle 9 e mezza, dal giovedì alla domenica sera, tutte le settimane e puoi farmi tutte le domande che vuoi e chiacchierare con me? Trovi il link qua sotto nella descrizione. Grazie a tutti. Oramai si tratta di fare piccoli interventi con i mezzi toni. Grazie a tutti. 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 Questa volta ci fermiamo qui. Alla prossima con un nuovo esercizio da 5 minuti.